Nel cuore della festa a Stampaccio la tese è scandita dal susseguirsi delle messe nella chiesa, affollata sin dal primo mattino. Dall'andi divini di fedeli, devoti e anche semplici visitatori e turisti che risalgono le vie dai balconi addobbati per immergersi in una piazza che a stento accoglie la folla. Al suo arrivo il terzo guardiano, Marco Marinaro, raccoglie attorno a sé la guardiania per la tradizionale distribuzione delle coccarde, per un'emozione nuova anche per chi, come lui, ricopre quel ruolo dopo nove anni. Le emozioni sono sempre forti come nove anni fa, sicuramente dopo nove anni sono invecchiato anche io, quindi c'è un po' più di esperienza, forse sono cambiate tante cose, qualche tradizione magari non si è potuta mantenere perché i tempi non lo consentono più, però fondamentalmente l'emozione è quella. E' festa doppia per l'Alternos perché unisce il primo maggio, il compleanno, a quell'incarico così prestigioso voluto dal sindaco per volontà popolare. E questo mi ha riempito di orgoglio, mi ha chiesto cosa dovevo fare il giorno del mio compleanno, il primo maggio e l'ho capito subito che a quel punto avrei dovuto passare un giorno veramente speciale. La messa a lui dedicata segna il culmine di quella professione di fede e devozione per lasciare poi spazio alla spettacolare uscita del cocchio, tra onori militari, lanci di petali e volo di colombe. Ci sono i rappresentanti delle famiglie Ezzi di Sarro che lecca di Caglie a guidare la problematica manovra di uscita del cocchio dalla piazza. Poi è processione, sotto la spinta del gioco di Amigo e Pagufidau, almeno Siloavilla Dorri.